Un suggerimento per il candidato Merola del centro-sinistra qua a Bologna? Vincere bene, Bologna ha bisogno di ripartire, ne ha tutte le condizioni, sono convinto che abbiamo preso una strada che è buona, che è giusta, bisogna cercare di mettere dentro l'innovazione e allargare anche le forze del Valle Civile di Bologna, bisogna trovare un equilibrio tra politica e amministrazione e società civile, ciascuno facendo la sua parte e riconoscendo ciascuno all'altro il proprio ruolo e credo che Merola abbia le condizioni per fare questo, ha esperienza amministrativa, ha consapevolezza dei lati della politica e ha anche capacità di avere un colloquio molto concreto con interesse, distanze, esigenze dei diversi gruppi sociali, quindi io sono molto ottimista. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.